Vabbè, ci provavo anche con il mio lag, vai. Ma dove stanno? Dove ti ho messo il pink. Ma che non li vedo? Manco io. Manco io, però vedo la cosa del medaglione. Guarda che secondo me che favo schifo. Ma come? Proprio a caso. Ah, no, sono più qua, no. Affidaci a volley sotto questo punto di vista. No, no, sto guardandogli il... Il cazzarieto del medaglione. Come, 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 come? Come, come, come.